La scuola sta bene, nessun problema particolare a parte il discorso di Melara che valuteremo un po'. In questi giorni la scuola sta bene, poi due vittorie, abbiamo già messo da parte, siamo già concentrati su questa gara. Ma io non è che sono un mago, volevo semplicemente dire in quel momento che l'obiettivo era quello di fare quante più vittorie possibili, ma questo entra un po' nella nostra mentalità, nel nostro modo di fare calcio, nel nostro modo di allenarci, è nel nostro DNA. Quando parlavo di punti mi riferivo semplicemente al fatto che le partite dobbiamo giocarle per vincere, con grande rispetto verso tutti, però senza sentirci assolutamente inferiori. Rispetto sì, però poi avere questa voglia di confronto che è quello che poi conta di più in campo. No, vabbè, ha voluto alzare la tensione sicuramente. Beh, Braglia è un collega che stimo, che ci conosciamo da tanto tempo. Ultimamente ha sfruttato qualche episodio fortuito nei nostri confronti, ultimamente. Mi auguro che avvenga il contrario domenica. Ma in Lecce è una squadra forte, con un organico assortito, un organico ampio, importante, personalità, esperienza, caratura tecnica, squadra ben guidata. Sarà un bel confronto.